Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi siamo qui per fare un'altra tier ranking list ovvero una listona dove io vado ad esplorare tutti i titoli che sono presenti in questa classifica e a metterli un po' in ordine secondo il mio personalissimo gusto come era già successo per tutte le serie YA che avevo letto e vi metto giù nell'infobox anche questo video specifichiamo due cose importanti la prima che chiaramente io sono la persona più pigra del mondo quindi non avevo sbattimento di andarmi a cercare tutte le copertine caricare i sui tier ranking eccetera eccetera non ci avevo voglia quindi ho trovato due classifiche più o meno contenenti i titoli che ho letto comunque ce ne sono tanti legati al fantasy in questo caso magari i fantasy young adult li lasciamo un po' da parte parliamo più di fantasy per un target un po' più alto fantasy storici cioè nel senso storici non come setting ma storici nel senso di qualche anno fa e non solo mi sembravano interessanti di questi titoli non abbiamo ancora parlato quindi partiamo da queste così io faccio anche la minor fatica possibile nella darmi a prendere le copertine vabbè è un po' a caso questo video lo sapete seconda puntualizzazione doverosissima da fare che mi raccomando questi sono i miei gusti le mie preferenze il mio modo di fare su cui io faccio anche ironia non sono ovviamente opinioni oggettive sull'opera se sono tra le vostre preferite non prendetela non è un giudizio personale come sempre ma è la mia personalissima opinione io poi amo farlo con ironia quindi non vi preoccupate nessuno vi sta giudicando se quelli che insomma a me non piaceranno sono tra le vostre opere preferite non è così che funziona ecco allora le due classifiche che ho trovato sono queste qui quindi abbiamo questa dove fondamentalmente ci sono tutti questi titoli dei quali alcuni abbiamo anche parlato altre non ho neanche la più vaga idea di che cosa siano e invece la seconda che è questa qua e anche qua ci sono un sacco di titoli che ho letto quindi partiamo da questo ma prima rinominiamo un po' la classifica perché non mi piacciono queste categorie e... ah questa è al contrario dell'altra volta allora qua vediamo neanche al mio peggior nemico la seconda è... potevamo non scrivere e non credo che userò tutte queste categorie ma sono troppe vabbè allora andiamo avanti qua ci mettiamo ok ovviamente insomma adesso le rinominiamo un po' a caso qua sul giallo no ma questa la togliamo ce l'abbiamo già dell'itro abbiamo già un ok allora mettiamo anche un... cioè l'ok ma potevamo fare di più e con l'ok ok indifferenza qua invece andiamo sul mi sento di consigliare andiamo al molto bene e alla fine mettiamo Olimpo cioè diciamo nell'Olimpo ci mettiamo solo le mie serie preferite quindi allora abbiamo un sacco di titoli a me dispiace perché io guarderò molto spesso lo schermo quando parlerò di questi titoli e direi che possiamo iniziare iniziamo da qua vediamo cosa salta fuori poi la incrociamo con quest'altra che si chiama Best Sci-Fi Tierlist Maker ah io l'ho fatta al contrario vabbè ma raga ma cosa stiamo dicendo? ma chi se ne frega? ok andiamo allora il primissimo titolo che vedo in questa classifica è A Game of Thrones di George R.R. Martin in questo caso ovviamente per me è una delle mie serie preferite da sempre quindi non passiamoci sopra cioè non so come dire per me le cronache del ghiaccio e del fuoco sono davvero una serie che mi sta molto molto a cuore al di là di qualsiasi altra cosa d'altronde quattroneggia un lupo quindi avete già capito poi abbiamo The Color of Magic di Terry Pratchett ecco la categoria che mi sono scordata di mettere è la no boh below ok poi ci aggiungiamo la categoria ancora non le ho letti quindi ovviamente ci saranno sicuramente quindi partiamo dal peggio e arriviamo al meglio vabbè un po' al contrario di quello dell'altra volta come sempre non vi aspettate della precisione da questo video perché sarà tutto a caso cioè sono io che parlo delle mie robe che mi piacciono e vabbè partiamo allora primo titolo che vedo è A Song of Fire and Ice cioè primo qua quanto abbiamo allora Terry Pratchett con The Color of Magic cioè il primo libro della Discwork cioè del mondo disco io non l'ho letto quindi lo metto subito qua perché io del mondo disco ho letto solo visto che il mio ego è smisurato la saga di Tiffany quindi The We Free Man eccetera eccetera che è l'unica cosa che insomma mi interessava essendo come dire la prima protagonista che leggo di nome Tiffany e insomma vabbè avete capito comunque non l'ho letto però sono molto curiosa in realtà vorrei recuperare tutta l'opera di Terry Pratchett ma oggettivamente mi servirebbero 20 vite che non ho poi a me piace perché è molto ironico però insomma non sono particolarmente fan dopodiché abbiamo Harry Potter in questa versione che tra l'altro è quella americana quindi è sicuramente Sorcerer's Stones invece che insomma Philosopher's Stone voi lo sapete Harry Potter è la mia serie preferita che dire che dire che dire allora il prossimo titolo farà arrabbiare moltissime persone perché lo metterò dove lo metterò è Lord of the Rings cioè il Signore degli Anelli di Tolkien allora io metto in dubbio che sia un'opera fondante per il fantasy che abbia tantissimi pregi ma ha anche tanti difetti secondo me difetti nel non risultare un'opera che a me proprio spacca le ovaie non ci posso fare nulla non è colpa di Tolkien cioè colpa sua ovviamente per come l'ha scritta ci sono tante cose positive ma ci sono anche tantissime cose che a me non piacciono non funzionano e soprattutto è il festival della Braga quindi poi a me l'epic e l'high fantasy lo sapete non piacciono quindi purtroppo adesso quando collabora al computer io la metto qua cioè io la metto neanche il mio peggior nemico non perché sia cattivo no allora facciamo madonna vabbè io la metto lì però non vi offendete ok dopodiché abbiamo l'occhio del mondo cioè The Eye of the World di Robert Jordan che è la serie ovviamente che inizia con cioè che fa iniziare la serie di The Wheel of Time la ruota del tempo allora io ve ne ho parlato lungamente nella puntata delle fantasy talk sull'epic fantasy siamo sulla stessa linea d'onda di prima secondo me Jordan ha avuto un'ottima idea per un world building incredibile però a me già dal secondo libro aveva frantumato davvero ogni possibile risorsa di pazienza quindi devo dire che la metto in ok ma potevamo fare di più perché comunque secondo me il concept è molto più dinamico molto più interessante rispetto ad altri epic c'è un piano davvero molto grande molto alto però secondo me a parte che si perde a un certo punto la serie e poi non è il mio genere cioè io non amo le serie come amo chiamarle cioè di festival della salsiccia e del polipo cioè dove ci sono spadone contro spadone avete capito poi abbiamo le cronache di Narnia delle quali io penso di non avervi mai parlato e penso sia invece molto interessante farlo ovvero le cronache di Narnia per me non sono un cattivo esempio nel senso sono un'ottima serie per tanti versi il mio problema è puramente ideologico cioè alla fine il viaggio che compiono i nostri protagonisti attraverso Narnia è un viaggio evangelico e a me questa cosa ha sempre infastidito molto ma è davvero un problema personale quindi io non riesco a metterlo oltre all'ok ma potevamo fare il più non ho nessun problema con Lewis come scrittore la storia è impostata anche bene ma è sempre questa morale super mega cristiana che si scontra un po' con tutto ciò nel quale io credo quindi in realtà è una buona serie ma la sua morale a me non piace cioè la trovo limitante per tanti versi quindi ecco ok ok poi vado avanti con Stephen King The Dark Tower cioè la torre nera che è l'unica opera di Stephen King che io vorrei leggere quindi la metto nel non ho letto l'ho studiata lungamente per una serie di motivi tra cui ovviamente anche di recente per un fantasy talk e vorrei davvero leggerla moltissimo il mio problema è che insomma di Stephen King ho sempre letto poco non è uno di quegli autori che a me attira molto anzi ho letto solo l'uomo in fuga quindi lo so dopodiché abbiamo The Dragon Riders of Pern dell'Anne McCaffrey che in questo caso apre il ciclo dei Dragon Riders in Italia il primo si dovrebbe chiamare Volo di Drago ma indovinate un po' è fuori produzione quindi Dragon Riders per me allora devo dire è una serie molto storica che subisce moltissimo gli effetti del tempo ma a me è sempre piaciuta moltissimo è anche stato uno dei cicli più popolari con protagonisti draghi eccetera eccetera quindi personalmente io mi sento di consigliare non lo metto più in alto perché ci sono molte cose tra cui anche la rappresentazione della figura femminile che si vede che è una serie scritta a metà degli anni sessanta e insomma negli anni seguenti però devo dire che comunque qua siamo fan ok poi abbiamo il mago di Earthsea di Ursula Leckin che io metto in molto bene perché io amo la Leckin incredibilmente e quindi insomma sono abbastanza contenta di metterla qui non la metto più in alto perché per me è molto bene molto ma non è nel mio limpo cioè rimane tra tante saghe che io amo moltissimo però ecco ecco c'ha dei problemi c'ha i problemi continuo con Eragon Eragon ne avevamo parlato anche nello scorso video perché era presente allora io Eragon lo metto tra il mi sento di no lo metto tra l'ok no lo metto tra il mi sento di consigliare ma lo metto tra l'ok no sì allora lo metto tra l'ok alla fine è stato difficile questa scelta ed è sempre difficile perché Eragon ha il problema di non essere scritto bene ok però quando l'ho letto io che è più o meno coincido con quando l'hanno letto tutti mi era sembrata la cosa più figa di sempre quindi è anche stata una delle prime storie dove il protagonista era il drago che io ho letto e grazie a Eragon io poi mi sono buttata su invece opere molto più famose e rilevanti riguardo ai draghi eccetera eccetera Eragon ha il difetto di non essere scritto bene e io non lo voglio nemmeno rileggere perché ho paura a rileggere quelle robe che aveva scritto Paolini a 16 anni che però lo perdoniamo ci aveva effettivamente l'età che ci aveva ma continuiamo e in questo caso abbiamo la bussola d'oro voi lo sapete la bussola d'oro è una delle mie serie preferite io devo molto a questa serie devo una delle decisioni più importanti della mia vita e insomma sono super super contenta di metterla qui perché se lo merita leggete la bussola d'oro leggete Pullman qui abbiamo Robin Hobb con l'apprendista assassino l'apprendista assassino io non l'ho letto non so come dire non mi ispira per nulla non ci posso fare nulla ho paura che ci siano troppi elementi che non mi piacciono indipendentemente dalla bravura che può avere la Hobb ce l'ho penso sul Kindle da 6 anni 7 anni non mi ispira non mi ispira neanche un po' poi abbiamo di Brian Jack la saga di Redwall in questo caso che in italiano rimane Redwall da quello che ricordo ma poi cambiano un po' i nomi e sono abbastanza imbarazzanti io ho letto solo il primo però vi ammetto questa cosa mi è sembrato ok ma non è mai diventata non so una serie mia preferita ma poi è anche un problema di reperibilità quando io l'ho letta in biblioteca c'era solo il primo non c'era il resto della serie poi penso che sia andata fuori produzione penso non ne sono certa ok poi vado avanti e troviamo The Fionavar Tapestry cioè la saga di Fionavar di Guy Gabriel Cai che io ve l'ho detto anche questa va nell'Olimpo perché Fionavar è una delle mie serie preferite adesso mi metterò a fare gli aggiustamenti perché sono malata però davvero adoro Fionavar è una serie pazzesca verrà ripubblicata in Italia insieme a Tigana quindi mi raccomando mi raccomando quindi non fate le cosacce ok allora qua di nuovo saremo al punto in cui scontenteremo tutti allora io Il nome del vento non l'ho letto e per lo stesso identico motivo per cui non ho letto la Hob non lo voglio leggere non è una questione di è brutta o non è brutta in maniera oggettiva è che io sono convinta che Il nome del vento di Patrick Rothfuss non faccia per me perché io non ho voglia di leggermi uno strong male character già non sopporto le female figuratevi i male e non cioè non mi ha mai ispirato non so come dire ce l'ho fermo lì che prende polvere da secoli è forse il libro non letto che ho da più tempo e non lo so poi non è conclusa quindi cioè perché dovrei iniziarla sinceramente non l'ho studiata a lungo e basta e basta poi abbiamo Il ciclo dei Belgariad di David Eddings di cui ho letto i primi due allora secondo me questo è una serie molto interessante per alcuni versi ma io lo metto in ok non riesco a metterlo più in alto cioè più in basso in realtà nella classifica ma è uguale perché parte bene buoni presupposti ma poi non contiene cose che io amo nella letteratura quindi di nuovo è un problema mio ma come tutte queste cose che non vedete in alto e poi ridiamo poi abbiamo il libro dei Malazan ok qua mi uccideranno allora i Malazan caduti io lo metto e mi sento di consigliare perché di più per me non poteva fare oggettivamente punto non riesco a metterlo più su perché per quanto sia secondo me un'opera che ha dei punti di grandissima genialità concept molto interessanti è Spadoni contro Spadoni a me degli Spadoni non me ne frega niente ottimo tutto davvero è scritta bene è fatta bene è fatto tutto bene il problema è proprio il contenuto che che oh poi abbiamo Missporn e qua davvero io forse chiudo il canale perché probabilmente finirò sulla lista nera di un sacco di persone allora io con Brian cioè con Bernard Brandon allora io ho un problema con Brandon Sanderson non diretto non in altre cose allora quando io sento parlare di fantasy sento parlare solo di lui 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 quando c'era lui quando scrive lui mi vorrei sparare ve lo giuro peraltro scrive epic fantasy che è il mio genere preferito del fantasy cioè quello proprio che non mi viene voglia di leggerlo nemmeno sotto tortura perché prima cosa per anni ho letto solo quello perché c'era solo quello e come dire quindi io Missborn che io sono convinta che sia un'ottima serie molto bella ma cioè di per sé mi pare una serie che proprio ci abbia ben poco cuore per quelle cose che amo io quindi io sono convinta che Sanderson sia bravissimo il migliore cioè quello che vince tutti i premi per l'amore di cielo è che a me non interessa e quindi spero capiate questa cosa anche se siete super fan e anche se continuate a suggerirme ogni sotto ogni madonna di video io sono certa che Sanderson guarda c'è anche The Way of Kings e glielo mettiamo subito qua non li ho letti non ho in programma di leggerli perché c'è tanto altro che mi interessa di più non ho un giudizio su di lui come autore sono certa che sia il più bravo che nessuno sia come lui che bla 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 è che non mi interessa proprio quindi insomma abbiate pazienza ok però invece passiamo a una cosa veramente molto figa ovvero Stonefront che è il primo volume dei Dresden Files i Dresden Files sono una cosa pazzesca e bellissima che però non è mai stata portata in Italia quindi io vabbè lo metto in molto bene cioè è a metà questa cosa è proprio a metà tra molto bene e Olimpo e io vi suggerisco se potete di recuperarle perché sono una saga bellissima stranissima cioè qua devo dire che l'uso di sostanze simpatiche non è mancato ma ha una solidità è interessante è nuova è qualcosa che non avete mai letto o comunque che se avete visto in tv è anche secondo me per merito di Jim Butcher e niente leggete assolutamente i Dresden Files questo è un ordine ok poi arriviamo ad Abercrombie con ovviamente The Blade Itself vabbè la prima legge First Law comunque la saga io lo metto molto bene perché anche se non è il mio genere Abercrombie mi piace moltissimo come scrive lo trovo abbastanza rilassante mi piace proprio come intesse tutte le varie trame come non guardi in faccia a nessuno e soprattutto mi piace il fatto che abbia una certa varietà all'interno delle sue storie non so io la ricordo con grande piacere questa serie poi arriviamo a un altro dei miei preferiti ovvero Lies of Locky Lamora cioè gli inganni di Locky Lamora di Scott Lynch io lo metto nell'Olimpo perché davvero Locky Lamora è una delle mie serie preferite senza quella non ci sarebbe Sadie Corby innanzitutto senza quella non ci sarebbero tante altre cose che secondo me sono molto valide e Locky Lamora per me è una delle serie più avvincenti divertenti spietate crude violente ma anche proprio intriganti perché piena di misteri di dicocce niente quindi insomma io nonostante Scott Lynch insomma ha fatto cose che non supporto però la serie è veramente valida la serie è veramente veramente valida ok dopodiché abbiamo Shannara il ciclo di Shannara io lo metto in potevamo fare di più ok cioè a me non ha mai preso granché devo essere sincera non è che me ne prendi poi più di tanto di Shannara perché è molto classica come impostazione anche se introduce una serie di innovazioni però è proprio quel tipo di epic che a me dopodiché io fattico un pochino a capire questa copertina quindi la mettiamo giù che dopo faccio degli altri studi poi abbiamo Terry Goodkind con la spada della verità io nonostante tutte le problematiche di Goodkind eccetera a me la serie non è dispiaciuta quindi la metto su ok potevamo fare di più però l'ho sempre trovata abbastanza divertente allora dopodiché abbiamo Lost Hero che io non ho letto quindi la metto direttamente subito qua e invece Lightning Thief di Rick Riordan cioè la serie di Percy Jackson io la metto mi sento di consigliare ma io non ho un particolare attaccamento alla serie perché l'ho letta molto tardi una questione poi un'altra insomma bene ma non sono particolarmente affezionata ho letto i primi tre e non mi è mai venuta quella gran voglia di andare avanti ma perché l'ho letta forse troppo tardi io ciò non toglie che secondo me Ray Jordan sia un buonissimo scrittore e che abbia creato una serie molto interessante avvincente dopodiché abbiamo Prince of Thorns di Mark Lawrence che io sto finendo proprio in questi giorni diciamo che lo mettiamo in mi sento da consigliare ma anche qui non è che lo consiglierei a tutti è veramente uno dei libri più violenti crudi e non so come dire discutibili che io abbia letto mettiamo discutibili d'altronde è Grimdark quindi non è che ci si può aspettare pasticcini e te però eh come dire vado avanti perché qua veramente ma ci sono un sacco di titoli secondo me ne riusciamo a fare uno di questi test in questo caso abbiamo Black Company di Glenn Cook per me è molto bene ve ne ho parlato nella puntata sul Grimdark secondo me se tutti Grimdark forse ero scritti come Black Company un grande applauso dal pubblico anzi molto meglio di tante opere Grimdark che leggiamo adesso e anzi secondo me è molto molto valida spero la traducano anche in Italia perché meriterebbe perché è un'opera diciamo che ha definito un po' il genere ha dato via al Grimdark ma nessuno l'ha mai tradotta questo è un grande peccato secondo me poi abbiamo di nuovo Guy Gabriel Sky con Sailing to Sarantium allora io personalmente non l'ho mai letta questa serie perché in italiano non era stata tradotta quando io mi ero molto intrippata con Kai oppure non l'avevo recuperata quindi purtroppo non l'ho letta ma spero di recuperarla presto poi abbiamo Sabriel di Garth Nix io la metto in molto bene perché ne ho un buon ricordo magari non è così bene come io me la ricordo però a me Garth Nix piace moltissimo e anzi penso sia uno degli autori che meritano di più quando si parla di letteratura per ragazzi fantasy quindi la mettiamo lì voi segnatevela ok dopodiché abbiamo Le furie di Calderon cioè The Furies of Calderon di Jim Butcher che io non ho letto e mi dispiace molto non averlo letto perché mi ispira davvero tanto tra l'altro dovrebbe essere stata anche tradotta in italiano o una parte tradotta comunque insomma io non l'ho letta un po' mi dispiace andiamo avanti perché abbiamo Brent Wicks con Black Prism ne avevamo parlato anche in questo caso nella puntata sul Dream Dark io cioè la mettiamo in occhio e mi sento di consigliare non di più perché comunque secondo me è molto interessante ed è un'idea davvero molto brillante anche parecchio strana weird eccetera ma non è proprio la mia serie preferita diciamo è stato abbastanza faticoso leggerla un compenso abbiamo Night Angel che ne abbiamo parlato esattamente nella stessa puntata e lo mettiamo allo stesso posto perché sicuramente Night Angel è molto più interessante molto più scorrevole per il lettore il concept è un po' più semplificato e infatti è più o meno sul livello di Prince of Thorns per alcune cose ma tante cose molto interessanti in più a mio parere però ecco la scrittura è molto più grezza è molto meno accurata molto meno interessante invece il prossimo titolo è The Magician Apprentice che è il primo libro nel ciclo di Riftwar di Raymond Feist ne parleremo presto anche nei Fantasy Talks a me Feist piace molto quindi io lo metto in molto bene mi rendo conto che forse sarebbe tra mi sento di consigliare molto bene ma a livello personale a me piace molto come saga la trovo super interessante e quindi insomma ok poi abbiamo Acacia di Durham ma io non l'ho letto quindi lo mettiamo direttamente nei non letti e non ci perdiamo tempo perché poi abbiamo invece la saga di Bartimaeus che io metto in molto bene perché è una delle saghe alle quali forse sono più legata per quanto riguarda il fantasy per ragazzi io la trovo super divertente scritta molto bene con un concept assolutamente interessante eccetera eccetera verrebbe quasi anche voglia di rileggerla un pochino ma non abbiamo tempo va bene comunque la mettiamo lì è assolutamente super consigliata poi abbiamo Gormengast cioè Tito di Gormengast che io metto in ok ma come sono buona oggi scusatemi la metto in ok potevamo fare di più perché secondo me Tito ha delle cose assolutamente eccezionali al suo interno e allo stesso tempo riesce ad essere una saga che non non so come dire non ti godi nemmeno per un minuto cioè gli elementi positivi e la pesantezza con cui secondo me si percepiscono all'interno della lettura cioè sbilanciano tantissimo il piatto è una saga assolutamente interessante anzi poi anche di questa ovviamente ne parleremo nei fantasy talks forse quando sarà la puntata dedicata è che non è proprio il mio tipo di fantasy anche in questo caso ok poi abbiamo Cushel Start che è la rosa c'è il pugnale la rosa no come cavolo si chiama in italiano il dardo e la rosa ecco non mi veniva il nome che è la saga preferita di Clarissa peraltro vabbè preferita non lo so però una di quelle che le sta più a cuore io ho letto solo il primo e il primo lo mettevamo in potevamo non scrivere cioè è la prima tra l'altro è quella che che inaugura la categoria diciamo che mi piacciono altre cose cioè potevamo non scrivere che stavamo benissimo lo stesso dopodiché abbiamo oh China Meville con Perdido Street Station che per me è molto bene è super figa io la trovo una delle saghe steampunk più interessanti divertenti con tante anche implicazioni politiche che vi suggerisco e ve l'ho già suggerito nel primo fantasy talk e quindi eccoci ok poi abbiamo Promise of Blood che io non ho letto la metto direttamente qua senza sforzo The Crown Tower che non ho letto la mettiamo qua The Shadow of the Torture che non ho letto nemmeno questo quindi andiamo avanti veloce ok dopodiché noi abbiamo Roger Zelazny con Nove Principi in Ambra e io lo metto in mi sento di consigliare perché è una serie super figa e anche di questo ovviamente ne parleremo nei fantasy talks che è più o meno sottotitolo di tutta questa di questo video e che dire secondo me è molto interessante ha un po' l'età che ha ma segnatevela dopodiché abbiamo Fairy Wars di Herbie Brennan che io però non ho letto quindi mettiamo direttamente qua poi abbiamo The Magician di Lev Grossman che io metto in molto bene perché mi piace molto anche se probabilmente potrebbe stare in mi sento di consigliare con un po' di umiltà ma vabbè oggi proprio siamo la bontà poi abbiamo Chronicles of the Unhewn Tron che io non ho letto quindi ciao Tad Williams con The Dragonborn Chair che non ho letto nemmeno in questo caso Blot Song che non mi ispira neanche per sbaglio Dragon Path che non ho letto qualcosa che abbiamo letto ce l'abbiamo ah c'è Susan Cooper finalmente meno male che c'è Susan Cooper così almeno qualcosina lo mettiamo anche nelle cose da consigliare allora Susan Cooper questa dovrebbe essere la serie del risveglio delle tre tenebre lo do per scontato perché non conosco questa copertina io la metto in mi sento di consigliare perché è molto carina una serie per ragazzi che merita davvero tanto è interessante anche vedere come gestiscono il sistema magico secondo me all'interno della serie ok Garth Nix cioè più piccole se le facessero più piccole le saghe capirei anche che libro è perché ovviamente il problema sono le copertine allora se io non erro questa è la copertina di Mr. Monday della saga The Keys to the Kingdom quindi io non l'ho letto e lo mettiamo direttamente qua una fatica assurda per oh Scotch Becker con The Darkness That Comes Before e in questo caso io la metto in mi sento di consigliare non so ancora a chi ma io me lo sento comunque The Thousand Names non sappiamo neanche cosa sia The Curse of Callion Callion anche questo l'abbiamo letto ah questo ce l'eravamo tenuti per dopo e ancora non ho capito cosa sia The Warded Man non l'ho letto Dragons non l'ho letto Ra Salvatore non l'ho letto oh abbiamo The Once and Future King io questo ovviamente lo metto in molto bene perché secondo me è uno di quei testi un po' fondamentali che insomma quando si parla di fantasy andrebbero letti e a me piace molto poi abbiamo The Red Knight che io non ho letto purtroppo però mi ispira bella copertina poi abbiamo The Still Remains di Richard K. Morgan che anche questo lo mettiamo mi sento di consigliare abbiamo Artemis Fowl che a me piace molto quindi la mettiamo sicuramente in molto bene non parliamo del film che è appena uscito perché è una roba imbarazzante io vorrei capire cos'è questa copertina ma non lo so ma abbiamo Max Gladstone che anche questo lo mettiamo in molto bene sperando che qualcuno out there si metta una mano sul cuore e pubblichi questa serie in italiano dopodiché abbiamo Diana Wynne Jones perché anche questo non riesco a capire se è Charlie in the Chocolate Factory ma dubito e abbiamo Diana Wynne Jones con The Dark Lord of Dercom della Jones io ho letto diverse cose tra l'altro è una delle fonti principali di ispirazione anche per la saga di Harry Potter e voglio recuperare un sacco di cose sue ma Dark Lord non è mai stato tradotto in italiano quindi quando io mi stavo leggendo un po' di queste cose me la sono un po' persa io qua non riesco a leggere il titolo neanche qui porcaccia la miseria poi magari sono copertine super famose ma io non le ho presenti quindi mi tengo tutte queste qua che non riesco a ricondurre un qualcosa per ultime facciamo prima ok dopodiché abbiamo Spade nella nebbia di Fritz Leiber Fritz Leiber anche in questo caso capo di tutto e anche in questo caso lo mettiamo qui ma perché ho fatto sto casino scusate vabbè mi sento di consigliare ma in generale di recuperare Leiber secondo me è molto cioè è un consiglio che vi darei se volete approfondire ovviamente il genere Traitor's Blade io non l'ho letto questa cosa qua non capisco cosa sia quindi la mettiamo qua in fondo ok Anki Jameson con la saga dell'Eneritian Saga insomma la trilogia è iniziata con la quinta stagione io lo metto nei nonoletti perché non l'ho ancora letto ma è una delle mie missioni visto che Anki Jameson mi sta super super simpatica poi abbiamo Magic Bites di Iliane Andrews non l'ho letto abbiamo Rosemary and Rue di Sheena McGuire yes e io mi sento di consigliarlo se volete un po' di trash urban fantasy super valido scusate raga nel frattempo è arrivato il momento gelato che non c'avevo più oh abbiamo la Mare Ye in questo caso serie che a me piace moltissimo in questo caso infatti abbiamo La figlia della foresta molto molto valida se vi piace il fantasy di stampo medievaleggiante con recheggi insomma di queste cose fantasy storico lei secondo me è veramente molto brava Matthew Stove che io non ho letto Trudy Canavan con The Magician Guild in questo caso io mi sento molto bene perché secondo me lei è veramente brava è tradotta in italiano con un'edizione neanche troppo vecchia quindi anche quello consigliato The Rook io non l'ho letto abbiamo quello di prima che non so cosa sia quindi lo mettiamo in fondo altri titoli che non riesco veramente a leggere né a capire cosa siano in questo caso abbiamo Black Sun Rising invece di C.S. Friedman e anche in questo caso mettiamone molto bene è fighissimo è una serie pazzesca fuori di testa ma veramente molto figa dopodiché abbiamo The Deed of Paxenarion di Elizabeth Moon e in questo caso io la metto nei molto bene anche no la mettiamo nei mi sento di consigliare non è così in alto serie che se amate la mitologia nordica che si mescola celtica più che nordica che si mescola anche con elfi gnomi insomma tutte altre creature secondo me è molto valida City Stairs io non l'ho letto quindi lo mettiamo qua in fondo la serie di legend di David Gemmell is not for me Red Pyramid non l'ho letto poi abbiamo The Thief cioè il lada di Megan Will and Turner che per me è un molto bene super super fighissima questa serie veramente bellissima Alan di Tamora Pierce anche in questo caso la metto mi sento di consigliare perché anche questo ha un po' di tempo cioè è una serie altrettanto figa quella di The Song of Lioness e in questo caso noi seguiamo la nostra eroina nell'impresa di diventare una cavaliera poi c'è Jareg che io non l'ho letto questa cosa che non riesco a leggere la mettiamo in fondo King's Dragon anche in questo caso temo di non averlo letto Inkheart della Cornelia Funkel secondo me altro titolo da molto bene cioè è super figo Inkheart come serie per ragazze è divertentissima A Shadow in Summer non l'ho letto Oh Lioness di Jack Vance che ne abbiamo parlato secondo me anche questo è un mi sento di consigliare super super figo questa è roba che io non leggo non ne ho idea Tithe di Holly Black non l'ho letto Red Queen purtroppo l'ho letto e anche qua andiamo nella categoria potevamo non scriverlo poi abbiamo la saga del Riddle Master che è fighissima è bellissima e anche in questo caso lo mettiamo nel molto bene A Darker Shade of Magic qua Andrea perdonami ma per me è un ok ma potevamo fare di più bene ma eh poi abbiamo City of Bones scusate voi che siete fan ma anche in questo caso la mettiamo vicino a Tolkien così perché oggi mi parte così ragazzi lo sapete a Meshero Hunters non piace non lo faccio per cattiveria ma non è una saga che mi sento di consigliare e che spero qualcuno riscriva allora poi abbiamo Ted Williams con boh questa che non si legge il titolo ma io immagino che sia Shadow March come serie e non l'ho letta quindi la mettiamo lì poi abbiamo Cavern of Black Eyes anche in questo caso poi figurati c'è del Black Eyes oh poi c'è Previan di Lloyd Alexander e in questo caso anche qua molto bene e anzi secondo me è altro titolo doveroso poi abbiamo la saga di Dying Earth di Jack Vance che io non ho letto purtroppo e invece sono sempre stata consigliata di farlo e quindi eh poi abbiamo Cruel Prince di Holly Black anche in questo caso finisce in potevamo non scriverla e invece l'abbiamo scritta non so Raven Boys che anche in questo caso a me piace molto molto bene molto figa come saga poi abbiamo la saga di Recluse di Modessit che io metto e non ho letto perché non l'ho mai letto come la saga di Donaldson e poi finiamo in bellezza perché c'è Throne of Glass e Throne of Glass lo mettiamo neanche al mio peggior nemico nel senso che a una persona a cui voglio bene o comunque nella quale non ho sentimenti negativi Throne of Glass non lo suggerisco ma non lo suggerisco neanche al mio peggior nemico nel senso che perché uno dovrebbe leggere Throne of Glass non c'è motivo va bene questa è un po' tutta la mia classifica perché questi sono quelli che non capisco cosa siano e non c'ho nemmeno più voglia di fare ricerche visto che questo video è già durato un'eternità salviamo questa immagine insomma come vedete oggi sono stata buonissima cioè ci sono un sacco di robe qui e ovviamente anche tanti nolletti ma d'altronde finché sono super pigra non mi faccio le mie classifiche sarà dura niente spero che anche questa puntata a caso di me che faccio cose addirittura mangio gelato e sono lentissima mangiare i gelati vi sia piaciuta come ritorno sul canale un po' easy e niente ci sentiamo giù nei commenti mi raccomando nessun sentimento negativo nel senso che se le serie delle quali ho parlato a voi piacciono le amate le avreste messe in tutt'altro posto siamo qua per parlarne insieme sono anche super contenta di farlo per il resto direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao